è stato molto sintetico allora buonasera a tutti nell'ambito dell'attività dell'Unitre dell'Università dell'Ettoreità di Pionvino ormai da un paio di anni abbiamo inserito anche la presentazione di libri questo è il secondo abbiamo presentato poco più di un mese fa o poco meno non mi ricordo è il libro di una nostra cara concittadina e amica che è emigrata è un altro film di Fembre che è emigrata in quel di Brescia